e bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video su gita 5 online oggi siamo una nuova gare rita parkour creata da cosi e ho fatto qualche pezzo anch'io con lui in shareplay in questa gara e andiamo a provarla subito con la nuova auto la mercedes sls guardate che spettacolo oggi sono in compagnia di cinghialotto lucozzi dux zazu e mufo andiamo a vedere questa carerita com'è c'è scritto livello medium hard quindi credo che sia qualcosa di difficile due giorni a me di gara e let go! andiamo a prendere il primo check point super cosi non si può non si può non si può vietato tolto le collisioni perché perché deve essere la cosa migliore da fare devo ancora acquistarlo questo veicolo c'è quindi finisco la gara lo vado acquistare modificare subito perché è bellissimo tanto c'è un dux forever più davanti molto selvatico ecco qua inizia il parkour c'è inizio c'è inizio ma non faccio io olle, tocca tagliare un po' mi sa, mi dicono così dalla regia mi dicono ma no, io non ho mai passato le sospensioni all'auto eppure mi incasto hai il gommone che è buggato, mi incasto io che ce lo sto, cura te te allora gommoni buggati anderson, anderson guarda, fa tutta la fila dei gommoni la vedo lunga è molto difficile così molto difficile super così oi 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 vabbè 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 allora wait wait a second wait a second ok andiamo adesso velucio velucio qua c'è un altro gommone Ok, let's go! Capite che tocca andare veloce ma... Ma è proprio la macchina che fa schifo ragazzi Questa macchina drift parkour è altamente sconsigliata Questa parte è sconsigliata ragazzi Bello! Non usate questa macchina di parkour Adesso che il parkour ovviamente non riesce a fare contrapeso perché è una ruota Ho fatto anche io uno skill test di questo veicolo Guarda qua! Dio! Facilissimo! No! Che succede? What? What the f... Ok, vabbè Senza collisioni cinghialotto è riuscito a buttarmi giù, non si sa come I misteri di GTA ragazzi Senza collisioni ti buttano giù Ok Frena, 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 frena La veloce, io la veloce, veloce No, no, ho sempre la terza Io non ci voglio credere ragazzi Io non ci voglio credere Sempre la terza Qua Dai! Cinghialotto Cinghialotto Parkage Cinghialotto Dai Dai, sto registrato, ho detto qui Non iniziamo Vabbè, mi sono incastrato Dai, andiamo avanti con la gara Allora, vediamo un po' Io No, vabbè, non si può fare Non si può fare questa parte qua, è impossibile Così è impossibile impossibile Aspetta un attimo Ok Allora No, 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 no Poi quando parte, sgomma, brutta sta macchinillizza Ok Qua ce l'ho fatta Poi la terza lì mi viene l'ansia, non so perché Veloce, 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 veloce Ok Qua, qua è il mio tallone d'Achile, veloce No! No! Ah già! Io non lo so perché Chi è che era quello? Rovanazzo, mi sento Si Ero io ma Eh si incastra, raga, è impossibile Eh, impossibile Ma qualcuno ce l'ha fatta? Eh, io vedo che si, qualcuno si è Lugocci No! Ma siccome si è incastrato da qualche... No, ce l'ha fatta Lugocci Ma ce l'hai fatta, no? Ma questo è il mio figlio Ma come ha fatto? Ma come ha fatto? Ma vuoi? Ma vuoi? No! Perché devono con tutto lo spazio che c'è? Perché eravamo quasi uguali di colore Olle, forse ho capito il metodo Quanti ne ho? Madre mia! Madre mia! Madre mia! Shhh! Frena! Ok, 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 ok Silenzio, silenzio Ce l'ho fatta! Madre mia! E ora? Olle! Oh! No! Dove ci va? Perchè? Vai retromarcia! Vai retromarcia! Oh! 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 Andiamo a andare, per favore Fami andare per favore Mi addosso Eccolo Lucozzi Dica quattro parti, retromarcia qua Buona fortuna Fortuna Oh no, 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 no Vediamo se è cazzo Oh no! Beh Ma è meglio ecco lucozzi ho ripreso lucozzi ma qua è tosta regà cioè è l'ultimo mi sono trollato all'ultimo dai eh no per la pagare è veramente difficile un casino con quattro pale eoliche da superare no 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 balla d'oro allora dai che punto sei zazu? ma io sono ancora all'inizio mi sono trollato nell'ultimo non so come ok ne mancano due nooo questo va veloce che si deve incastrare se qua no c'ho spazio per ok piano olle dai l'ultima ok dove è il turbo? ah non c'è turbo qua olle iniziano i ricarica vai 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 olle ho preso il check let's go let's go ci sono ultimi cinghierotto vabbè non lo calcoliamo let's go aie no 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 anche l'uoggi ce l'ha fatto ok passiamo adesso proviamo va bene una volta che si deve incastrare qua olle facciamo questa parte piano 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 perfettamente dai che vedo il checkpoint prena ma quanti check ci sta? 16 olle vediamo un po' di rincorso e anche qua ce l'abbiamo oh guardate che spettacolo spettacolare 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 questo mi sono incastrato qua no raga questi gommoni sono baggatissimi i gommoni si frena 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 oh mio dio oh mio dio cosi cosa ha messo qua? andiamo dentro ok perfect andiamo avanti colgo l'occasione per salutare tutti gli iscritti spagnoli hola guys olle ok è l'ultima? no ahia 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 nooo allora non si gira sta macchina non ha proprio non ha è qui lì ah 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 ok 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 ci siamo l'ultima l'ultima pala the last one merda non 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 no no non 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 Ok, ok, ci siamo Piano piano, ragazzi, giriamo Questa parte sembrava facile Ma non lo è Ok, ci siamo Andiamo avanti così Tanti check mancano C'è il traguardo, ragazzi My god Oh my god Bellissima gara di cosi Andiamo a prendere questa bella Primera posizione Ok, risponiamo E qua abbiamo il traguardo Wow, guardate che spettacolo Very crazy, very crazy cosi Primera posizione E niente ragazzi, bellissima gara Bellissima gara stupenda Io ringrazio Zazu, Lugozi, Muffo e Cinghialotto per essere stati qua con me in questo video E noi ragazzi, come sempre, ci becchiamo al prossimo video Bella, ragazzi Ciao 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 Ciao